Ciao, sono Sandro Gaetani, faccio parte di questa polisportiva da circa 7-8 anni e mi occupo dell'ambito sportivo ma in complesso di un po' di tutto. Diciamo che collaborano 360 gradi con la struttura, quindi mi occupo di tutto ma fondamentalmente è l'aspetto di connessione tra UISP e Comune. Cerchiamo sempre più di essere coinvolgenti con il comprensorio, con tutti gli abitanti di Tripoli in particolare ma comunque con San Giorgio in generale. La fortuna di Tripoli sono i volontari, fondamentalmente siamo in circa 40-50, diamo ai volontari lo zoccolo duro del volontariato. Abbiamo due scuole di calcio nel settore UISP e Calcio 8, abbiamo un gruppo di ragazzi che fanno basket. Poi ci sono un gruppo di ragazzi che fanno pesca, molti ragazzi che fanno birilli. Insomma, cerchiamo di toccare più punti possibili. Convolgiamo i bambini. I bambini in questi ultimi due anni, con il maestro Luca Lorenzini, che con il suo Jiu Jitsu, Judo, Karate, sta sempre più prendendo piede nella nostra struttura. E questo ci è molto onore, perché si deve partire dalla base dei bambini per poter crescere sempre più. Sono Angiolina Zanini, sono stata insegnante di scuola di infanzia, circa 30 anni, in questo paese, di fronte alla polisportiva La Stella. La Stella l'ho vista nascere con tanti volontari, con tante persone che hanno dato il massimo del loro tempo per costruirla. Questo ci dà emozioni, ci dà una passione sempre maggiore. Grazie.